decliniamo ora il il illud il pronome aggettivo dimostrativo che il latino può utilizzare anche se molto raramente come pronome personale di terza persona il quello ma anche egli illa quella ma anche ella illud esso ma anche quello ma anche esso nominativo genitivo illius di quello illius di quella illius di quello dativo illi a quello a quella a quello accusativo illum quello illam quella illud quello ablativo con quello con quella con quello ovviamente a quello possiamo sostituire pronome di terza persona in italiano quindi le diverse forme la stessa cosa vale per il plurale nominativo illi quelli ma anche essi illi quelle illa quelle cose illorum di quelli di quelle illarum di quelle illorum di quelle cose dativo illis a quelli illis a quelle illis a quelle cose accusativo illos quelli illas quelle illa quelle cose ablativo tre forme identiche con quelli con quelle con quelle cose sempre illis grazie a tutti grazie a tutti